Lunedì 21 settembre, dopo la chiusura alle 15 dei seggi, Palazzo Strozi Sacrati a Firenze diventerà il fulcro di tutte le notizie riguardanti lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale della Toscana. Nelle immagini vedete gli ultimi preparativi in vista della diretta curata da Toscana Notizie, l'Agenzia di Informazione della Giunta Regionale con la Fondazione Sistema Toscana. Nell'attesa che arrivino i primi dati, ad urne ormai chiuse, dalla Sala Pegaso si racconterà, con l'aiuto di alcuni ospiti, come la Regione è cambiata da quando è nata 50 anni fa. La diretta potrà essere seguita su YouTube e all'indirizzo www.toscananotizie.it slash direttaelezioni2020, pagina da cui saranno accessibili anche altri contenuti. Per quanto riguarda l'andamento dello scrutinio, sul portale elezioni2020.regione.toscana.it, raggiungibile anche dai siti di Toscana Notizie e della Regione Toscana, i dati inseriti dagli uffici elettorali e delle amministrazioni saranno aggiornati praticamente in tempo reale, su una grafica di sintesi di immediata lettura e con la possibilità di visualizzare i dettagli anche dei singoli comuni e delle singole sezioni. Sullo stesso portale, durante la giornata di domenica, saranno pubblicate le percentuali di affluenza alle urne rilevate alle 12, alle 19 e alle 23. Il lungo pomeriggio dello spoglio sarà raccontato anche sui social media di Toscana Notizie. Palazzo Strozzi Sacrati accoglierà, anche per questa tornata elettorale, con tutte le accortezze necessarie vista l'emergenza Covid, ospiti e postazioni delle testate giornalistiche accreditate regionali e nazionali. Nel 2015 furono 135 i giornalisti e i tecnici presenti. Al pomeriggio e alla serata elettorale a Palazzo Strozzi Sacrati sono stati invitati tutti i candidati.